Tutti, è appena finita la partita, Lido Arturo contro Mastro Geppetto, finita sul risultato di 4-0. Con noi abbiamo i campioni. Marco Moscatelli, Peppe Pisano. Com'è andata la partita? Tutto bene, tutto bene. Niente, non c'è niente da dire, fai parlare. Che cosa hai da dire, Pisano? Abbiamo giocato un po' la palla, meglio. Mancavano alcuni calciatori. Però alla fine abbiamo gestito noi la partita, non gli abbiamo fatto toccare un pallone. Dove pensate di arrivare in questo torneo? No, lo vinciamo, lo vinciamo. Lo vinciamo sicuramente. Si, lo dedico alla vittoria, lo dedico alla mia cugina. Ok, infatti fa un po' schifo. Grazie a tutti. Ciao dalla Mavericks.